good morning come dice la nostra sigla buongiorno 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 a tutti 7.04 ai 40 secondi di giovedì 14 settembre benvenuti qui su crystal radio e su milano news per una nuova puntata di good morning milano buongiorno lorenzo masieri buongiorno fabio come stai tutto bene tutto bene tutto a posto comandato si è arrivato stamattina dicendo stamattina fa freddo no finalmente però giornata mattina primaverina autunnale quasi la prima volta ci sono stati quei tre giorni in cui siamo arrivati a 16 gradi dopo il picco dei 40 di botto che lì sembrava di essere veramente ottobre non so se ti ricordi sì 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 e così andrà avanti mi sa per qualche giorno dopo magari guardiamo un occhio al meteo e diamo qualche consiglio anche visto che ci avviciniamo al weekend anche per sapere insomma un po' come va weekend importante per crystal radio sai perché c'è la festa di cesano boscone infatti avete sentito anche il promo durante le nostre pause e poi ne parleremo meglio perché insomma poi soprattutto settimana prossima tra i due weekend di festa ci saranno un po' di contatti di interviste varie con i protagonisti della festa di cesano boscone che appunto c'è questo weekend e poi tutta la settimana e poi il prossimo weekend crystal radio sarà presente proprio in quelli cesano dovrei esserci anch'io adesso sto valutando quando forse domenica sono da quelle parti comunque noi si inizia si parte rimanetevi con noi fra poco la rassegna stampa e poi gli ospiti e tutti insomma i nostri vari sketch durante la giornata sempre qui su crystal radio a good morning milano dunque adesso invece cose serie sono le 7 10 minuti inizia la nostra rassegna stampa con il nostro esperto di politica interna come fosse un poctologo norenzo masieri allora beh per il momento siamo ancora in apertura alla fine c'è ancora poco sottolineiamo sul corriere milano un articolo che riguarda ciò di cui parlavamo anche lunedì con il nostro ospite filippo coletti la scuola riapre però diciamo un po metà senza mense tempo pieno mancano i soliti discorsi che si fanno tutti gli anni e tutti gli anni comunque ci saranno finché non si prendono dei provvedimenti strutturali su questo versante per prendere di scuola che ha aperto praticamente in cinque giorni quasi è sempre più o meno anche oggi primo giorno per alcuni so ad esempio le scuole elementari che aprivano oggi anche io ricordo che quando andavo a scuola comunque c'era qualcuno che iniziava prima qualcuno che iniziava dopo anche a si poi adesso c'è quella roba dell'inserimento per cui il primo giorno fai mezz'ora poi fai tre quarti d'ora poi fai un'ora e mezza graduale anche noi dovevamo iniziare così graduale ma ci mettevi otto ecco capito dovevamo fare l'inserimento radiofonico bene 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 lo dirò poi al dire tour della radio per prossima stagione va bene altro altro vabbè chiaramente tutti aprono tutti le testate tutte le testate online aprono con la tragica notizia della ragazzina di 13 anni travolta in via padova quindi un altro incidente stradale in bicicletta anche dai no no in questo caso però non è che meno grave infatti anzi se proprio stiamo guardando tu sei lì tranquillo che cammini per i fatti tuoi e t'arrivano 800 chi di roba addosso che ti tirano sotto ma anche perché alla fine più o meno le strade sono sempre quelle cioè le conosciamo ormai quali sono quelle ad alto pericolo diciamo così sì 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 via padova sicuramente tra padova via le bonza corso bonosai la certosa sempre quelle sono sempre quelle beh arterie principali e dimmi no vedevo invece che prima parliamo magari meglio dopo che l'inter ha cominciato a fare il primo passo per il nuovo stadio sono solo parole e invece no e no va bene parliamo con calma dopo ma basta anticipare il fatto che ieri l'inter abbia presentato al sindaco di rozzano e dei comuni interessati il progetto per lo stadio da 70 mila persone ecco segnatevi questa cifra 70 mila san siro qua quello nuovo no 80 passa ma quello nuovo non arrivava quasi a 60 mila per due squadre insomma c'è qualcosa che è cambiato c'è qualcosa che è cambiato andremo a capire meglio che cosa è stato che gli ha fatti cambiare idea è un po' malizioso avere lo stadio da meno spettatori consente come sai bene di gonfiare i prezzi fare i famosi skybox oppure i premium seat tutte quelle cosine che fanno le società per cercare insomma di tirar su più soldi possibili 7 e 15 minuti anzi 16 in questo istante su cristal radio ci siamo dimenticati una cosa però il numero il numero per poterci scrivere 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 anche solamente se volete farci il buongiorno ma pensa senza dare il numero è già arrivato un whatsapp è già arrivato un whatsapp il carissimo alberto ci scrive buongiorno milano buongiorno fabio e lorenzo buongiorno amici di cristal radio buongiorno a tutti i nostri cristallini che ci ascoltano ripeschiamo questo termine cristallini che anche bello perché vuol dire che siamo puliti che siamo trasparenti che siamo che facciamo tanta plin plin siamo delle delle belle chi ascolta allora ufficio marketing di cristal radio ho un nuovo slogan chi ascolta cristal radio è una brava persona secondo me non è tanto al passo coi tempi ma se non c'è un po di revato non tornare un po per un'opera revival è revisionismo in un attimo quindi attenzione a non fare a non fare certi voli pindarici ho visto qua invece su corriere milano sempre no repubblica milano scusami che è se lunga ha trovato l'accordo col fisco sai che c'aveva un po di menate un po grosse anche infatti un po grosse e l'ha trovato con un bello sconto però perché parlavamo di centinaia di milioni e siamo scesi a 48 milioni di euro li ha già versati come si versano 48 milioni di euro su un assegno un assegno c'è una banconota da 40 milioni poi 8 banconote da 8 milioni come funziona? non ne ho idea puoi fare un bonifico con un backing da 48 milioni? no non credo di potere non puoi vabbè comunque sai che ho fatto una di quelle che si fanno con ho comprato dei bitcoin no? perché sono un genio sono sul pezzo no? troppo tutti gli dicono di non comprarli e io ovviamente li ho comprati gli ho fatto la transazione dopo un secondo cellulare mail e mi mancava solo che veniva a bussare a casa messaggio della banca ti abbiamo bloccato la carta per problemi di frode avevo paura che qualcuno mi avesse rubato la carta mi hanno chiamato loro ma è successo in vita mia e ho dovuto confermare che si no guardi che stavo facendo io ho fatto ok adesso lo puoi fare della prossima volta adesso può comprare tutti i bitcoin che vuole ma pensa a te che roba ho appena fatto tu un attimo è stato capito? quindi pensa se facevo un bonifico da 48 milioni cosa succedeva? comunque a Selunga trova appunto l'accordo con il fisco a me non piacciono mai tanto queste storie perché in realtà la morale della favola qual è? i vadi il più possibile tanto poi ti fai un sconto cioè ormai questa roba mi fa un po' girare le balle è quello che c'è la base di ogni oddio non mi viene il termine del condono eh sì perché poi alla fine sembra quello poi qui c'era una storia un po' strana in cui anche Selunga in realtà sembrava quasi vittima di un ragione però insomma non era proprio io non mi addentro perché non sono particolarmente informato no 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 è un discorso di somministrazione di lavoratori cooperative, le solite scatole cinesi che vengono utilizzate in questi casi però vabbè è stato di fatto grave ci potete una casa a 48 milioni cosa facciamo con 48 milioni? mezzo stadio forse neanche? mezzo? perché non so quanto verrà sono 70 mila persone 70 mila persone dentro un parco verde dentro un parco verde così dice l'Inter nella sua presentazione ma io penso che sia sostanzialmente di forma cioè bisogna fare per forza dire per forza dentro qualcosa di verde sarebbe capace di cambiarsi la vaglietta pur di dire che sarebbero green e sostenibili l'Inter diventerebbe il sassuolo ma a proposito di verde qualcuno che verde veramente c'è ed è la redazione di Luce Verde che adesso ci dice invece qual è la situazione del traffico a Milano cosa dobbiamo ricordare prima di andare in pubblicità? dobbiamo ricordare ancora una volta il nostro numero whatsapp 33178535555 e ricordiamo anche a questo punto che ci potete sentire e sentire dovunque alla fine ovunque praticamente c'è anche i citofoni di casa del vicino secondo me vedere su Milano News invece ascoltarci sull'FM96.2 sul Dub Plus mi raccomando la vostra macchina molto probabilmente è il Dub Plus a te pagano per dire che il Dub Plus è fondamentale perché è fondamentale ragazzi è il futuro della radio e poi a questo punto mi sentite quasi in 3D mi sentite in Dolby Surround divento anche più figo sono anche bello sull'FM sono un tipo sul Dub sono un bel ragazzo punto sulla simpatia sul Dub appunto invece sull'avvenenza capito? va bene è così a fra poco una piccola pausa comunque Mickey Miage dal film Barbie l'hai visto tu? no? no neanche io siamo forse gli unici in Italia che non hanno visto il film però me l'hanno raccontato anche me l'hanno raccontato e soprattutto insistentemente tutti hanno detto valla a vedere valla a vedere e soprattutto ho capito una cosa che chi è andato molti di questo a vederlo ho visto i racconti di chi mi ha fatto a me che invece mi fido molto di loro non ha capito poi in realtà la vera trama del film o meno il messaggio finale ma infatti io e te che non l'abbiamo visto ne abbiamo parlato più sì è vero è vero delle persone che possono andare a vedere se l'avete visto diteci cosa ne pensate ne approfitto per fare un appello visto che è quasi finita la rassegna che è durata tutta l'estate del cinema 350 film nazionali ed europei gli ultimi giorni andate lì e fate la bella serata a vedere un bel film che è sempre bello è sempre bello infatti diteci comunque se avete visto Barbie 331 78535555 e soprattutto se avete capito la morale della favola alla fine notizie notizie dei giornali notizie una un po' di colore diciamo rispetto alle tragiche che purtroppo vediamo colore rosa in prima pagina no no in piazza adesso sbaglierò l'accento lavater lavater fontane e giochi d'acqua per innaffiare le piante in titolo del giorno un po' così ironico perché sostanzialmente l'acqua va ovunque tranne che sulle piante esatto si allaga la piazza si allaga la piazza dimmi si lava per te passiamo alla risposta dei gestori dei locali al sindaco sala che ieri come abbiamo detto anche qua ai nostri microfoni è tornato sull'idea di chiudere i deor a mezzanotte se non sbaglio per evitare schiamazzima la movida eccetera i gestori dei locali chiaramente rispondono dicendo che sala scarica le sue incapacità le incapacità dell'amministrazione su di noi loro non sono gli artefici della mala movida bensì le vittime siamo arrivati a definirla mala movida mala movida dire schiamazzi notturni dire rotture di scatole no mala movida ma tu sai che la movida in realtà era una roba bellissima sai come nasce la movida la movida nasce nel periodo dopo Franco quando per riprendersi diciamo la spagna appunto usciva fino a tardanotte a festeggiare quindi la movida in realtà è un po' come il 25 aprile in un certo senso cioè una roba bella una roba di libertà che poi dopo è stata usata in me per definire ecco forse perché non ho messo davanti mala adesso però vabbè mi sembra un po' esagerato però oggettivamente c'è un problema questo lo sappiamo lo sappiamo benissimo soprattutto in alcune zone vedete dal nostro caro amico Carlo Cecaro che magari ci sta ascoltando che insomma sono anni che lui fa battaglie per la darsena perché dice è un posto bellissimo dove si può fare tanto anzi gli abitanti gli dicono facciamole le manifestazioni ma facciamole pensando a quel luogo non che poi ci portano dentro gli aeroplani della Red Bull o quelle robe lì i motoscafi che saltano volano se sei una multinazionale devi fare un'installazione la metti sulla darsena ma ci hanno portato anche la Ferrari presente quando accendi la Ferrari di Formula 1 lì dentro cosa succede? con il rimbombo che c'è lì dentro cioè vabbè comunque stamattina sei arrivato lamentandoti no scusa no non sei lamentato anzi quasi constatando constatando e quasi essendo contento non ho capito che faceva più freschino faceva più freschino del solito cosa dice quindi il meteo per i prossimi giorni o per oggi? che le condizioni peggioreranno ah ok diciamo che chi vuole un po' di tregua dall'estate chi arrivati al 14 settembre vuole vedere sfumare quest'estate e salutare l'autunno diciamo che questi sono sono i giorni sono i suoi desideri io mi ricordo che l'anno scorso eravamo a questo periodo a fare il gioco del siamo al 38 di agosto siamo al 46 di agosto mi ricordo questo invece quest'anno insomma stanno tornando le mezze stagioni chissà no non credo proprio se mi arriverà poi il solito equazzone che ci allagherà tutto ma sicuramente in piazza Lavater sono già pronti quindi va bene e allora adesso un po' di musica qui su Crystal Radio alle 7.37 minuti Marco Mengoni insieme a Delo D con la pazza musica da 7.48 minuti Crystal Radio bentornati qui a Good Morning Milano che strano intervento quello che prima hai visto questo Lucas Giordani la voce non mi sentava la voce ho sentito ma tanto adesso faccio qua un quiz sono tutti così tutti questi start up vedremo se tornerà a trovarci questo Total Money poi boh strana strana titolo per una per un'azienda così il guru dell'economia virtuale il fuffaguru come li chiamano il mio amico Mario Moroni quindi il fuffaguru abbiamo un po' più di notizie sul discorso stadio invece giusto? sul discorso stadio sì perché il Corriere Milano ha fatto uscire un articolo più sostanzioso dove appunto abbiamo detto prima abbiamo anticipato adesso andiamo un po' più nello specifico ne Inter ne Milan partiamo da questo presupposto ne Inter ne Milan hanno abbandonato diciamo non hanno mai formalizzato l'addio al vecchio progetto che prevedeva l'abbattimento totale del Meazza e la realizzazione sono da 50 metri da sinistra esatto quello per cui abbiamo fatto il dibattito pubblico quello che abbiamo fatto il rendering quello che ha portato al vincolo al vincolo il rendering dell'Amazzonia quello dove c'era lo stadio con intorno la foresta amazzonica in quel di San Siro ok quello lì esatto poi come sappiamo Milan si sta spostando su San Donato e l'Inter su Rozzano e ieri appunto c'è stato questo incontro in cui sostanzialmente a cui hanno preso parte il sindaco di Rozzano il sindaco di Assago i dirigenti dell'Inter eccetera e chiaramente il sindaco di Rozzano si dice entusiasta gongola gongola ricordiamo solamente che a pochi centinaia di metri da Assago adesso noi oggi in particolare tratteremo con la nostra ospite la presidente del municipio Sette Silvia Fossati che arriverà tra poco ai nostri microfoni del discorso sulla sovrapposizione di eventi in uno specifico quartiere che è quello di San Siro in luoghi troppo vicini promiscui ad esi scusa adesso il fatto che un ipotetico nuovo stadio fra mille anni eccetera sia di fianco all'unico beh magari in quel momento là ci sarà il Pala Italia ma soprattutto ti dico questo ci sarà secondo me vedrai cosa succederà ci sarà il Pala San Siro ma sul modello Torino se San Siro viene liberato a quel punto perché non faccia un palazzetto dentro lo chiudi sopra un attimo il modello Torino non ha portato così tanta fortuna io voglio fare il modello Francoforte il modello Amsterdam il modello di quelle arene da 70-60 mila persone che ci sono nel nord Europa quelle dove fanno l'Eurovision per intenderci dove si può andare a vedere dei concerti tu devi vedere Rolling Stone 70 mila persone in un palazzetto chiuso però in un forum dove possono anche fare certe cose che non possono invece fare un forum da saggo che è più basso che ha solo 20 mila persone neanche forse meno non arriva 20 mila non arriva però anche questo è un tema comunque si parla chiaramente di anni eccetera però ecco una sovrapposizione di eventi anche lì sicuramente sarebbe più gestibile perché siamo fuori Milano comunque alle porte di Milano e non siamo sostanzialmente in centro però hai una grandissima zona commerciale che è quella dove c'è anche il cinema e c'è un bel po' di movimento lì hai il forum e al resto lo stadio Duovson secondo me lì si è da rivedere un po' poi ricostruire un attimino e l'uscita tangenziale che dà sulla Milano Genova quindi insomma è un po' un problema anche quello tra 7-8 anni non mi aspetto che non ci sia una discussione su abbattere a saggo farne uno diverso eccetera può essere può essere i bagni di assago sono vecchi e ricordiamo che tutto questo discorso comunque va a dopo il 2026 oramai tranquillamente perché nel 2026 bisogna fare la cerimonia bisogna fare la cerimonia l'apertura in quel di San Siro perché è scritto così cioè se lo togliamo da lì il Cio il Cio ci fa un mazzo tanto e ricordiamo cerimonia di inaugurazione giochi olimpici invernali a San Siro vuol dire che San Siro in ogni caso in qualche maniera verrà rivisto verrà rivalutato verrà riqualificato quindi e poi soprattutto sai la notizia del giorno qual è sai chi sarà il Teodoforo che accenderà io perché ridi non può essere allora io in questo momento avanzo la mia candidatura allora è diverso per accendere il bracere no io avanzo per fare almeno 5 metri io al Bosco in città lo accendo il bracere per fare la ghigliata con gli amici mi limiterò a quello però arriverò con un fiammifero correndo lungo il viale del Bosco in città che mi spegneranno subito perché è ovviamente rischioso per il Bosco quindi non si può no però sai che c'è la possibilità di portare la fiaccola l'abbiamo visto quando sei da Torino no la fiaccola a un certo punto arriverà in Italia e girerà tutta l'Italia e lì sì che ci sono le candidature e lì sì io spero almeno di fare quei 10 metri di Via Novara magari che mi fanno fare vado anche a Pioltelle non è un problema cioè mi sposto anche però a me piacerebbe tantissimo portare anche perché se non sbaglio c'è una diretta del 5 metri sì sì c'è una diretta tipo lunghissima che proprio segue mi piacerebbe tanto mi piacerebbe tanto no è sicuramente una bella avevo visto un video di uno youtuber che abbiamo citato anche ieri ah sempre di Human Safari che non mi ricordo per quale che ha un nome che lui si chiama Human Safari Niccolò Ballini ecco Niccolò Ballini scusa è molto una bella esperienza sicuramente infatti adesso senza nulla togliere Niccolò ma se l'ha fatto lui non posso farlo io no io mi distoggio ma scusa lo dicono tutti adesso io mi distoggio ho capito quando è che l'ha fatto poi lui non mi ricordo che olimpiadi ha portato c'è stata un'olimpiade tipo a Pyongyang non ricordo male sì sì c'è stata un invernale una roba del genere mi ricordo ah ok va bene e allora andiamo con un po' di musica ma soprattutto rimanete qui con noi perché fra un po' ci sarà anche il giornale ci sarà tutto quello che è la grande momento dell'ora di Crystal Radio e poi torniamo qui sempre con le notizie l'informazione come sempre qua in diretta su Crystal Radio e Milano News a fra poco Maniac 1983 eh sì ma tu non c'hai neanche dei pensieri come si dice dei tuoi nonni erano appena maggiore i miei pensa a te quindi veramente neanche dei pensieri no in realtà ho fatto un calcolo molto approssimativo non si conoscevano non credo no sicuramente no sicuramente no questa voce sensuale calda che sentite alle 8 e 09 minuti su Crystal Radio è quella di Lorenzo Masieri il mio come si dice fido scudiero fido scudiero fido scudiero no ma fido è un cane ma infatti dobbiamo capire eh il mio impavido scudiero scudiero non ti piace Don Quixote e Sancio Panza infatti mi piace quello per una volta faccio Don Quixote e non Sancio Panza soprattutto talmente suadente questa voce che ho la caramellina perché sono un po' giù come di Filippi quasi una cosa così bravissimo bravissimo allora cosa è scattabellato un po' c'è una notizia pure per adesso non abbiamo nulla andiamo avanti invece con un po' di musica fra poco invece avremo un collegamento telefonico per parlare è stato appena pubblicato su Milano News se volete andate a vedere sull'Instagram di Milano News una tabella comparativa ne parlavamo ieri degli incidenti stradali con coinvolte biciclette nelle città di Milano e anche Bernino per Parigi Londra Madrid e Roma abbiamo fatto questa tabella un po' comparativa dati di un'occhiata perché sono dei dati interessanti ne parleremo anche fra poco con il consigliere comunale Carlo Monguzzi che ieri ha fatto un post su Instagram dove lamentava una commissione c'era stata una commissione in comune proprio sul tema sicurezza per i ciclisti ha detto sia stata bagarre insomma molto accesa la discussione da una parte ovviamente i verdi e parte della maggioranza della giunta comunale dall'altra quindi questa parte a favore poi dopo lo spiegherà bene lui a favore di manovre drastiche per cercare di ridurre anche l'afflusso di camion camioncini e soprattutto camion di grosse dimensioni all'interno della città dall'altra il centrodestra ECOF Commercio ma soprattutto i costruttori che dicono ma noi dobbiamo lavorare cioè dobbiamo costruire le case da super bonus in avanti cioè da fare tantissimo lavoro non possiamo pensare di non fare entrare i camion il problema esiste sicuramente il problema è anche una città che non aiuta a risolvere il problema perché insomma strade piccole strade grandi ma trafficate se pensi che la circonvalazione potrebbe tranquillamente essere a tre corsie ma con le banche in doppia fila diventano quasi sempre a due tante persone che utilizzano veicoli privati troppe possiamo dirlo troppe però se lo fanno avranno le loro ragioni sempre quello il discorso avranno le loro ragioni o se no mi viene a dire dall'altra parte non riusciamo veramente a comunicare l'importanza invece di usare i mezzi pubblici o anche la praticità di usare i mezzi pubblici questo laddove c'è praticità assolutamente eh sì a volte questa praticità un po' si perde in certe linee effettivamente un po' si perde ci sono delle situazioni un po' surreali che questo non so mi viene in esempio se sei da Grattosoglio vuoi venire da San Siro alla fine della fiera devi praticamente andare in centro per tornare fuori cioè difficilmente riesci a fare un'altra strada però stiamo parlando comunque di un'eccezione positiva adesso vediamoci chiaro noi non possiamo rimproverare niente cioè abbiamo poco da rimproverare alla linea pubblica a Milanese ah no la linea pubblica a Milanese è sempre niente rispetto all'altra città italiana ecco sempre in termini di paragone io faccio sempre questo esempio Londra viene portato ad esempio con le due miliardi di linee che ha ma ogni giorno a Londra ci sono almeno tre o quattro linee della metro che sono chiuse 8 e 17 minuti sempre qui su Crystal Radio ne parlavamo poco fa appunto andate a vedere la tabella comparativa che abbiamo messo sull'Instagram di Milano News comparando gli incidenti stradali con coinvolte biciclette nelle città di Milano Parigi Londra Berlino Madrid e Roma abbiamo fatto anche un conto approssimativo nel 2022 risultavano 11 morti 11 deceduti al mese a Milano per incidenti del genere insomma una cifra veramente altissima perché vi diciamo questo perché abbiamo al telefono Carlo Monguzzi buongiorno consigliere comunale buongiorno Monguzzi buongiorno allora ieri ieri proprio rimanendo in tema Instagram ha fatto un post un po' insomma piccato dove era un po' scocciato di come è andata la commissione a ripetuto che commissione era? Commissione Mobilità su il problema di area C inquinamento e sicurezza ok e qual era l'ordine del giorno? l'ordine del giorno era che tutta una serie di associazioni la Concommercio la Confedilizia l'Unione Artigiani insomma tutti quelli che lavorano a Milano si lamentavano delle restrizioni al traffico che peraltro sono molto 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 blande perché voi invece state richiedendo che si intervenga in maniera più forte soprattutto so che c'è il tema dei mezzi pesanti all'interno della città giusto? guardi il problema è questo qua io mi occupo da tanti anni di inquinamento e di sicurezza delle persone mi sento sempre dire l'inizio di ogni discorso è sì la salute dei cittadini deve essere al primo posto la sicurezza dei cittadini deve essere al primo posto ma c'è sempre un ma quando non c'è il ma c'è il però questo ma e questo però hanno fatto sì che negli ultimi 20-30 anni si facessero poche cose perché se guardiamo i divieti sono veramente poche cose ma non è che a me piacciono i divieti guarda io vengo dalla cultura dei figli dei fiori per me è bellissimo vietato vietare il problema è che a Milano abbiamo ogni giorno 850.000 ingressi ok non ci stiamo più le auto non ci stanno più gli ascoltatori lo sanno benissimo che c'è un traffico caotico allora noi non vogliamo dar fastidio a nessuno ma ci mancherebbe altro vogliamo far sì che chi può non utilizzare l'auto per lavoro per bisogni familiari chi può farlo lo faccia invece noi vediamo che ancora entrano a Milano tantissime auto con un solo passeggero ma ci si metta d'accordo si faccia il carpooling si entri con auto con due o tre passeggeri guardi cosa vuol dire passare da un'auto a un passeggero a un'auto a tre passeggeri vuol dire che risparmiamo due auto e non sono poche 800.000 ingressi non sono poche e c'è anche un risparmio individuale inoltre ma Manguzzi quello che non capisco io però è questo quello che non riesco a capire è questo cioè ci sono i mezzi pubblici a Milano ATM insomma il suo lavoro cerca di farlo nella migliore delle maniere e insomma dicevamo anche prima dell'intervento prima insomma in confronto all'altra città italiana siamo veramente anzi la creme della creme ma insomma ci difendiamo bene anche in Europa perché la gente fa fatica a capire che il mezzo pubblico può essere una buona soluzione per muoversi soprattutto all'interno della città o per raggiungere la città perché ritiene ancora più comodo andare in auto perché ritiene ancora uno status arrivare al posto di lavoro in auto uno arriva al posto di lavoro ai garage della vita dell'azienda parcheggia lì e si sente meglio si sente meglio ma fa del male a se stesso e fa del male agli altri aver aumentato il biglietto a due ore e venti dice che non è stato anche quello un po' un deterrente per alcuni a quale è stata una sciocchezza incredibile si poteva benissimo non fare voi pensate che il Comune di Milano non è obbligato ad aumentare i biglietti perché il Comune di Milano è quello che incassa i biglietti il costo dei biglietti i soldi dei biglietti vanno al Comune di Milano quindi non è che deve metterci dei soldi se non aumenta i biglietti è un bancato incasso ecco ma la domanda è questa lei che poi in Consiglio Comunale sicuramente vede le carte le varie tabelle Excel che girano cioè il Comune ci guadagna da ATM nel senso non è che ha bisogno per forza di far guadagnare di più oppure ha problemi di soldi diciamo deve fare cassa con ATM no problemi di soldi ce n'è sicuramente gli ascoltatori sappiano che il costo del trasporto pubblico cioè come si fa funzionare bus tram e metropolitane costa circa 700 750 milioni all'anno metà di questi sono gli introiti dei biglietti metà sono i trasferimenti dallo Stato e questa seconda parte non basta mai quindi dobbiamo sempre lavorare per avere più trasferimenti dallo Stato che poi vede paghi la regione paghi lo Stato non paghi il Comune sono sempre soldi dei cittadini perché lo Stato vive dei soldi dei cittadini come la regione come il Comune le passo il mio collega Masieri qui di fianco che ha una sua battaglia personale con Bike.me la mia battaglia personale spiegagli qual è io le voglio chiedere il suo parere sul fatto che un servizio come i Bike.me che io trovo utilissimo soprattutto per noi giovani utilizzatori si è aperto anzi dalle 6 alle 24 non oltre e non prima mi sa dare qualche coordinata in più su questa scelta una spiegazione è una cosa sbagliata ok infatti Europa Verde ha presentato una mozione che dice proprio di fare andare Bike.me di dare la possibilità perché sono giovani quelli che vanno in giro dopo il Vesco esattamente certo non ci vanno i pensionati ma quelli che tornano dal cinema piuttosto che da una festa e piuttosto che da qualsiasi altra cosa di poter utilizzare la struttura di Bike.me quindi le biciclette perché è proprio una diciamo una sciocchezza a cui nessuno finora ha voluto porre di nuovo anche perché è veramente un servizio ottimo che rischia di essere usufruito a metà ecco io la vedo così è vero certo certo ma e perché non si pensa mai ad alcune categorie cioè i giovani la sera poi prima della movida è tutta un'altra cosa ma i giovani la sera è utile che si muovano in bicicletta altrimenti cosa fa uno è costretto a venire ad andare in giro a venire a Milano infatti consigliere io le ringrazio tantissimo grazie mille come sempre di essere così puntuale e preciso speriamo di risentirci presto anche con altre magari belle notizie ogni tanto anche insomma se non sarebbe male grazie mille grazie consigliere grazie mille diamo il benvenuto lo sentite sotto c'è il nuovo tappetino musicale dell'ospite quindi diamo il benvenuto al nostro ospite di giornata la presidente del municipio 7 Silvia Fossati è qui con noi buongiorno presidente buongiorno a tutti voi buongiorno a radio ascoltatori e a invece ai video eh sì brava ascoltatori Maseri a casa ho trovato la sostituta perfetta vedi ha già fatto l'appello sia per chi ci sta seguendo su Milano News che chi ci sta seguendo su Crystal Radio è il nostro sindaco lei lo sai? è il sindaco della struttura Milano News eh sì perché noi qua siamo in mezzo al municipio 7 quindi è venuto a trovarci il nostro sindaco no? perché Silvia siamo andati qua però perché so che tu e la tua collega del municipio 8 avete avuto un'estate calda diciamo no? chiamiamola così calda musicale musicale spieghiamo bene cosa è successo allora innanzitutto spero che il sindaco sala non se ne abbia male visto che mi avete cambiato sindaco però detto questo l'estate calda è dovuta alla ai concerti a tutti gli eventi che vengono all'ippodromo la maura all'ippodromo e allo stadio San Siro alcuni addirittura in contemporanea il problema non sono i concerti diciamo che ci andavano negli anni 70 visto che non sono più di verda età però il problema è la gestione dei concerti la gestione di tutto ciò che avviene al di fuori di quei muri dello stadio e dei due ippodrome perché il problema appunto è non tanto il singolo evento che vabbè porta un po' di camera ma ormai siamo abituati e siamo stati anche capaci anche il singolo evento il problema poi è quando i singoli eventi si sommano e abbiamo avuto più di una situazione in cui almeno due eventi c'erano in contemporanea giusto? assolutamente sì e l'avremo anche sabato 23 se non ricordo male perché abbiamo una partita del Milan e un concerto mi pare dei Maragheti bisogna partire anche dal presupposto che stiamo parlando non di eventi ma di grandi eventi con decine di migliaia di persone perché l'ippodromo sappiamo benissimo che tiene una quantità la Maura poi è pazzesca la Maura sono 80.000 lo stadio più o meno quindi 160.000 persone sono più di un campo volo assolutamente più di un campo volo che però se non ricordo male dalla geografia e dall'urbanistica non è così vicino alle case no ma poi è in mezzo ai campi proprio e le strade per defluire non sono quelle di Milano Centro Modena 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 Reggio Emilia è quello nuovo e non è neanche il parco di Monza assolutamente infatti ecco perché appunto il tema è questo cioè nessuno è contro i concerti anzi benvengano benvengano le manifestazioni più se ne fanno più siamo contenti perché vuol dire che insomma c'è anche l'introito l'indotto e tutto ma non solo ma c'è anche vivacità culturale diciamo pensiamo sia alla cultura che all'economia in questo caso il problema è il deflusso il problema è il rumore per i concerti il problema devo dire la verità che non è solo l'organizzazione e la gestione ma anche l'inciviltà delle persone perché non dimentichiamoci che se io trovo la spazzatura per terra o la macchina parcheggiata sul prato per quanto uno possa far passare la polizia a dare la multa è l'inciviltà del cittadino sicuramente dobbiamo però aiutarlo non è che si possono dare solo le colpe la prima aiuto se posso dare un esempio è forse cambiare il nome della fermata dell'ipodromo e continuo a dirlo perché quei poveri cristi che vogliono andare a concerti alla maura scendono lì e poi si trovano a vagare per i quartieri cercando un ipodromo che non esiste quindi insomma anche già quello potrebbe essere e togliere San Siro invece perché quelli che vogliono allo stadio scendono l'ipodromo e ogni volta si incasinano quindi insomma è sempre un po' così però dimmi Lorenzo io volevo partire a monte cioè volevo fare una capire posso dire vuoi fare la domanda voglio fare la domanda la domanda sui processi perché mi interessano i processi decisionali dei municipi i comuni eccetera voi quando venite voi municipi quando venite a sapere di un evento come noi da Ticket One praticamente ma non lo so se io vado a cercare sul sito Disney su sito degli ipodromi su sito di San Siro o il calendario questa è la modo in cui di solito io vengo a saperlo mi spiace dirlo perché non sarebbe corretto dovrei saperlo in anticipo le due diciamo i tre enti Milan Inter e Snyte che dovrebbero mettersi d'accordo coinvolgere la FIFA se è necessario io lo vengo a sapere come tutti i comuni mortali infatti è quello che pensavamo anche noi quando ne stiamo parlando è veramente assurdo che non ci sia quindi sostanzialmente non potete intervenire a monte dell'organizzazione già fatta e quindi difficilmente ritoccabile esatto esatto per esempio quando è uscita questa delibera di giunta sulla gestione dei grandi eventi vengono chiamati che vale per tutti a Milano però non in particolare per questa zona dove abbiamo tre poli poi c'è Piazza del Duomo ci sono altri punti ma qua abbiamo tre poli grossi decisamente che tengono veramente tante persone tanti spettatori è uscita questa delibera che mette qualche paletto qualche però i concerti dell'anno ventura alcuni hanno già venduto i baglietti esatto per cui è sempre un avalle invece che a monte come si suol dire e allora noi siamo in collegamento abbiamo chiesto anche alla tua collega del municipio 8 cosa ne pensa perché infatti insieme avete avuto appunto questa estate in cui avete un po' tirato la giacchetta al sindaco e a tutta la giunta dicendo dai cerchiamo una soluzione sentiamo allora cosa ha detto ai nostri microfoni proprio ieri ci sono sentiti io e la Giulia Pelucchi appunto la presidente del municipio 8 sentiamo che cosa ha detto appunto ai nostri microfoni ciao Fabio e grazie per l'intervento dunque quello che mi sento di dire è che mentre per i concerti lo stadio San Siro negli anni si è consolidata una insomma un'organizzazione che di fatto crea evidentemente un disagio ma un disagio accettabile per quello che riguarda i concerti la stessa organizzazione non c'è stata noi in linea generale evidentemente non siamo contrari ai concerti ai momenti di aggregazione anche in quartieri più periferici che di fatto sono solo quartieri residenziali quindi senza particolare attrattività tuttavia crediamo che vadano gestite meglio sia la viabilità e quindi il fatto che una persona che deve rientrare a casa non ci impieghi un'ora e mezza per fare 50 metri e dall'altro lato la situazione dei parcheggi perché in queste estate l'estate scorsa nonostante l'inevatissimo numero di sanzioni che sono state erogate le persone hanno continuato a parcheggiare sulle aree verdi danneggiando prati parchi eccetera quindi quello che chiediamo all'amministrazione centrale di cui personalmente apprezzo lo sforzo rispetto alla deliberazione di giunta che prevede un limite massimo di iniziative per ciascun sito è di verificare anche la capacità numerica di ospiti che questi siti possono contenere quindi i due ipodromi possono contenere e dall'altro lato credo che non vada stabilito solo un termine un limite orario di distanza tra un'iniziativa e l'altra ma che in uno stesso giorno non siano realizzabili più iniziative nei due ipodromi e allo stadio questo è il nostro punto di vista l'abbiamo portato avanti con degli ordini del giorno e speriamo che la prossima estate insomma il quartiere Galleratese Lampugnano e Cutiotto possano insomma beneficiare di un intervento maggiore da parte anche dell'amministrazione centrale pur ricordando che gli ipodromi sono di proprietà privata grazie e un abbraccio a tutti non c'era canzone a caso è Bob Marley te lo ricordi tu è anche nato però intanto so che è l'ultimo grande concetto del 1980 pensa che anche lì però si facciano i concetti vicini anche lì perché sono andato a vedere quando abbiamo fatto il famoso articolo su scusate il mio Siris mi sa parlare il famoso articolo su San Siro nella stessa settimana ci fu un grande concerto appunto il grande concerto di Bob Marley e un grandissimo concerto di Bennato che fu la settimana fu il primo artista italiano a suonare a San Siro pensa tra il giugno e il luglio del 1980 il problema il problema è che adesso invece che dire nella stessa settimana dici nella stessa serata iniziano sempre per esse ma temporalmente sono un attimino diversi quella che sentite Silvia Fossate appunto il presidente del municipio 7 che appunto è qui a dirci quanto è complicato gestire questa situazione aggiungo che oltre i concerti appunto in questo triangolo di strutture c'è anche la normale movida della zona San Siro fuori penso al piazzale fuori dall'ippodromo ma quella è il giovedì sera appunto sì ma sa tutto ho fatto quanti sopralluoghi vado a farli in macchina non in moto però spieghiamo perché non in moto perché cosa succede il giovedì sera il giovedì sera c'è un raduno di motociclisti lì nel piazzale dello sport e su lungo via Caprilli i quali hanno tutto il diritto di andarsi a bere una birra eccetera avrebbero meno diritto di sgasare con queste marmitte con i decibel fuori sbaglio tu sei una che va anche in moto giusto andavo in moto infatti andavo anche in moto quindi insomma mi ricordo abbiamo parlato già di questa cosa della moto quindi lo dici vado adesso come passeggera e un tempo ero una invece guidatrice di moto vedi 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 quindi adesso cosa si può fare avete fatto delle proposte per cercare di a parte quella ovvia e razionale e penso che non capisco perché la gente non ci sia arrivata scusatemi il commento di non farli in contemporanea e possibilmente neanche nello stesso giorno il 23 forse ci sarà la partita a mezzogiorno se la FIFA accetta di spostarlo e il concerto la sera detto questo la zona ha tanti parcheggi non sono attaccati però c'è tutto il via Novara i vecchi parcheggi dell'Expo che poi erano stati fatti per i mondiali d'Italia 90 sono tutti parcheggi concepiti per lo stadio concepiti proprio per arrivare allo stadio allora il privato può benissimo collaborare e anche economicamente il parcheggio è gratuito e si mettono delle navette che portano nel piazzale San Siro e questa potrebbe essere una cosa anche di facile attuazione non ci vogliono cambi di strada non ci vuole niente un'altra cosa che pensavamo negli ultimi periodi anche di fare un altro ingresso se appunto un ingresso non so perché dovrei studiare la parte logistica sulla via Novara l'ipodromo alla Maura tocca anche la via Novara e a questo punto magari si avrebbero due ingressi che alleggeriscono sia l'afflusso col problema del parcheggio ma anche il problema del deflusso perché di colpo escono 80.000 persone 60.000 persone è come se il tifoso dello stadio tra virgolette fosse più abituato conosce la zona conosce la città sa quali sono le problematiche dei parcheggi quali sono le problematiche dove si prendono i mezzi eccetera poi ci sono i riti anche la salamella dopo la partita la birretta dopo la partita nonostante il fatto che la partita implichi una mezz'ora in cui entrano tutti e una mezz'ora in cui se ne vanno tutti mentre i concerti hanno un ingresso molto scaglionato addirittura dalla mattina presto dalla notte prima è l'uscita il problema è l'uscita e c'era anche tanta gente che non conosce Milano e quindi cerca di arrivare più vicino possibile però con indicazioni chiari magari stampiamo la cartina dei parcheggi sul biglietto cosa costa? magari non chiamare il posteggio che sta a Figino Trenno ad esempio poteva essere anche una soluzione quella esatto mi ricordo che c'era gente che cercava il lab vaccinale in mezzo al parco di Trenno quando invece era il parcheggio Trenno che stava a Figino una banalità su google map se io scrivo Bianselmo Dabaggio 55 che è dove risiede il municipio ti mandano in mezzo al parco delle cave per cui devo sempre dare l'indirizzo della scuola di fronte per che la gente arrivi vabbè questa è una nota di colore però sono quelle cose che poi fai uno per 80.000 capisci che ti troveresti 80.000 persone in mezzo al parco delle cave e sarebbe un grosso problema a quel punto anche perché darebbe un'idea per costruire un'altra arena al parco delle cave subito qualcuno notizia di oggi commentiamola così veloce l'Inter veniva da Tarozzano a proporre lo stadio a Rozzano in un parco letto proprio il titolo grosso ce ne faremo una ragione o cosa noi del municipio 7 cosa facciamo io sono interista preferirei averlo qui allo stadio detto questo l'importante è che lo stadio non diventi un rudine tipo il Marchiondi tipo altre situazioni che abbiamo nella città di Milano perché questo sarebbe veramente un insulto ai cittadini sia quelli che sono favorevoli che erano favorevoli al nuovo stadio sia quelli che erano invece volevano tenere in piedi San Siro per cui questo è l'unico diciamo terrore mio personale aggiungo nell'osservazione appunto sul fatto della quello che stavamo facendo fuori onda che ci sono tante città che sono molto attrattive per quanto riguarda concerti grandi eventi nuove come appunto a nuovo Reggio Emilia faccia la raffa tutto esatto Milano piglia tutto per appunto non vedersi scippare da sotto il naso da altre città da altre arene abbiamo poco tempo però leggeriamo questa mattina velocemente una nuova questione che è nata su via San Romanello invece cosa succede con il giostrai c'è un parcheggio che potrebbe essere utilizzato che prima era di ATM c'è una perequazione di aree del comune di Milano per cui ci hanno comunicato che dovrebbero venire lì i giostrai che adesso sono in via Natta quindi municipio 8 sempre io e la Pelucchia abbiamo queste ci scambiamo queste cose noi abbiamo sollevato tutta una serie di criticità per questo spostamento e quindi attendiamo la valutazione di queste nostre criticità lì è un'area grande che sarebbe invece meglio dedicare a una serie di servizi opportunità per il quartiere di Quinto Romano la ricicleria era veramente una cosa irrazionale io non sto parlando di non nel mio giardino ma sto parlando di valutazione razionale quella era irrazionale questo è un problema perché l'area è veramente critica notizia buona su Saromanello ve la posso dare Saromanello 34 case MM non mi ricordo quanti milioni di euro se non ricordo male 18-19 milioni di euro per la ristrutturazione nei tetti facciate eccetera eccetera vedi 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 almeno qualcosa bravissima vai per andare a casa perfetto ha capito già come funziona tempi radiofonici io prima mi sono un attimo lei invece ha visto ha già adacciato l'obiettivo di inizio poi alla fine così quando vai a casa è come quando vai al ristorante se mangi un buon dolce sei a posto perché ti ricordi l'ultima cosa che hai mangiato esatto un buon limoncello Presidente grazie allora grazie a voi di questa opportunità magari ci sentiamo e rivediamo presto e buona giornata a tutti grazie mille al Presidente del Municipio 7 Silvia Fossati allora l'appuntamento per quando è? per domani sempre come tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 su Cristal Radio in FM 96.2 da Plus sito app e in video su Milano All News grazie mille ancora a chi ci sta scrivendo al 33178 53555 Alberto ci fa i complimenti per la bella intervista con la Presidente del Municipio 7 grazie è ancora qui dopo l'ora di giro i complimenti alla Presidente e a domani a domani a domani ragazzi buona giornata ciao ciao a tutti